Torna a riunirsi martedì prossimo il Consiglio regionale del Molise. Oltre alla procedura di convalida degli eletti alle scorse elezioni di giugno, all'ordine del giorno è iscritto un solo punto, la rettifica al bilancio consolidato della Regione Molise per l'anno 2021. Si tratta di un provvedimento tecnico necessario a sbloccare gli atti propedeutici al bilancio di previsione del 2023, documento atteso da più parti per sbloccare lo stato di sostanziale fermo nel quale versa la macchina amministrativa regionale. L'assessore Cefaratti, che in questo caso più che a ramo dovremmo dire alla scure, visto i tagli e gli aggiustamenti da fare, sta lavorando alacremente dal suo insediamento alla stesura del documento. Tuttavia le scoperte che sono all'ordine del giorno impongono a Cefaratti partenze e arresti continui, situazioni sulle quali mettere mano e matasse da sbrogliare. Tra gli ultimi gomitoli finiti sul suo tavolo c'è quello del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione Molise, posta da considerare all'attivo di un bilancio. Sembrerebbe che anche su questo versante ci sia da fare chiarezza risultanto ad esempio indefinita la destinazione della sede romana della Regione messa in vendita sin dal 2016. Una faccenda da capire e approfondire, essendo chiaro che sul valore di un comò regionale si può soprassedere, mentre su quello di un immobile stimato in prima battuta in un milione e quattrocentomila euro, no. Misterium fidei, mistero della fede, che Gianluca Cefaratti sarà chiamata a svelare in un contesto talmente ingarbugliato dove insieme al classico coniglio rischia di sparire anche il cappello. Cefaratti tuttavia ha preso di petto la situazione ed ha sempre manifestato la fiducia di venirne a capo. Intanto sul fronte di un tema più generale, quello dei migranti, oggi a Roma l'incontro tra il Presidente della Regione Francesco Roberti e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. I nuovi CPR e i centri per i rimpatri, secondo la norma, devono essere realizzati in località a bassissima densità abitativa, caso che riguarderebbe da vicino il Molise. Necessario e opportuno quindi l'incontro di Roberti con Piantedosi. Su questo tema la consigliera del PD Fanelli ha presentato un'interrogazione a Roberti con la quale chiede che il Presidente riferisca in aula su un eventuale centro in Molise, accoglienti e solidali, ma come, si chiede Michela Fanelli, anche alla luce delle dichiarazioni del senatore Costanzo della Porta, che sul tema ha detto il Molise farà la sua parte. La politica si dà quindi appuntamento in aula a Palazzo d'Aimmo, martedì prossimo tappa di avvicinamento al bilancio di previsione 2023 che verosimilmente non vedrà la luce se non nella prima quindicina di ottobre.